Buonasera mister come sempre e bentornati ai nostri microfoni Buonasera a tutti Le chiedo mister un suo commento su questa gara Oggi i suoi ragazzi l'avevano messa sul binario giusto proprio in avvio di primo tempo Poi è mancato quel qualcosa in più oggi per chiuderla Per uccidere la partita come si suol dire Poi proprio alla fine infatti è arrivato l'uno a uno dell'Uboldese Quindi un suo commento su questa gara Siamo stati brevi ad andare in vantaggio Poi l'abbiamo anche amministrata bene senza mai rischiare niente Non siamo stati precisi un po' nelle ripartenze Anche se devo dire che un paio di volte Cinotti è stato fermato da ultimo uomo Era un chiara occasione da gol L'altro era un fuorigioco inesistente Clamorosamente inesistente Quindi le palle per raddoppiare le abbiamo avute Purtroppo abbiamo preso questo gol a pochi secondi dalla fine Una palla brutta che non dovevamo far rimbalzare Però niente è andata Pensiamo a mercoledì sera adesso alla Coppa Come seconda e ultima domanda Mister infatti le chiedo quanto conta Nel senso il risultato di oggi Quanto deve far riflettere il risultato di oggi In vista appunto anche dell'impegno in Coppa Con la lenta tese della serie Il rullino di marcia della Castelanzese Resta ovviamente impressionante Sotto tutti i punti di vista Ma questo pari può essere un calme gesso Ragazzi non abbiamo ancora fatto nulla Stiamo sul pezzo Siamo forti ma dobbiamo appunto andare avanti Passo dopo passo Ma calma e gesso sicuramente Ragazzi sanno che non abbiamo ancora fatto nulla Abbiamo 11 punti di vantaggio E quindi siamo sempre noi Che gestiamo il nostro futuro Quindi dobbiamo solo rimanere tranquilli E sperare di recuperare qualche giocatore Infortunato da qualche settimana Per avere qualche rotazione più Soprattutto in alcuni ruoli dove al momento siamo un po' corti E poi niente Testa mercoledì sera E speriamo di passare questo turno La ringrazio mister In bocca al lupo Ci vediamo mercoledì sera Contro la lenta tese in Coppa Italia Grazie, arrivederci Sera, ciao, ciao